Buongiorno a tutti, allora oggi andiamo ad aprire assieme un'altra super geek box che sono quelle box con i contenuti abbastanza nerd e siamo in compagnia di Simo Ciao Che allegria Non sto bene, dai, dai Vediamo un po' cosa c'è dentro Una maglia Mia Ma perché? Che carino Basta Che carino, guardate che patato Aspettate che lo apro Che è una maglia di Zelda Fa vedere? The Legend of Bubblegum Che carino E però c'è Jake di Adventure Time, così Vabbè sì Che carino Questa è Un Capitano America con la coda Sì un attimo, un attimo con cam C'è la maglia, ovviamente la solita taglia che gli ho detto io Poi qui Ecco qui c'è Capitano America C'è un Capitano America con la coda Con la coda, eh beh sì certo, Capitano America ha la coda ovviamente, chi è che non lo sa È troppo carino della Marvel E della Pop Ma come? Hanno fatto i pupazzi, non lo sapevo Guardate com'è carino Cos'è quello? Un polsino penso Fammi vedere il polsino Riesco ad aprirlo? Sì Perché ho perso l'abilità di spacchettatore, non facciamo più video assaggi Dai dobbiamo farne uno Quindi per chi me lo chiede dobbiamo fare video assaggi di recente Polsino Eccolo qui il polsino che lui si è già messo Cosa è questo? Una riga sopra C'è un fungo Sì ma c'è una riga sopra la scritta C'è una riga sopra la scritta Io lo pensavo fosse rovinato Invece è proprio una cucitura No no è una cucitura È morbido Sì non è il massimo portato d'estate Perché ti casca un braccio No infatti decisamente no Cos'è? Un mousepad Che carino Guarda che patata Deadlink Priestess Snowfad Error 404 Vai guarda quanto è carino No mio No ma ma Mi rubi tutto Questo è il bigliettino della superchicbox Ok Il tema è hero Ah bene queste sono le foto mandate da quelle dell'altra box E poi qua c'è un bagaglio di boccose Non so se sia superman Ah oddio è quello Madonna che profumo È da attaccare in macchina per profumare Sì infatti non dovevi spacchettarlo tutto quanto Vabbè mettilo dentro Che buon odore non capisco cos'è Rimettilo Annusa? È buono Non è vero Sa di catrame Ma va C'era attaccato questo No è buono Non capisco cos'è Comunque superman che carino E poi c'è una spilla Con superman e wonder woman Spilla Hero Carina E poi c'è una roba con No perché? Oh mio dio C'è slowpoke versione flash Versione flash Comunque che carino ciccione E poi c'è la scatola E poi c'è la scatola Ecco la cosa più emozionante è la scatola Soprattutto il foglietto con codice a barra Eh sì E non facciamo vedere il mio indirizzo E voilà ecco qui le cose che sono arrivate con la super Com'è che si chiama aiuto? Super geek box di maggio Sono tutte molto carine Soprattutto questo Ciao Ciao Ormai grazie a queste box Io ho l'armadio pieno di magliette E sono piena di peluscini E intanto Simo sta provando a mettersi il polsino in testa Ma giuro, giuro, giuro che non ci passa proprio Nel piede Ok Beh carina È diventata una cavigliera E l'hai messa anche al contrario Bravo Vabbè vabbè lo stesso No vabbè così la vedo io Vabbè Va bene Niente Questo video molto breve e stupido è finito Speriamo che vi sia piaciuto E vi salutiamo Ciao Ciao Ciao